Ciao ragazze, questo qui non sarà un video purtroppo perché è giusto un preavviso di quello che potrò riuscire a fare la settimana prossima. Vi chiedo solamente un favore di aspettare ancora un po' perché questo periodo è veramente pesante e veramente stressante. Non sto neanche riuscendo a studiare eppure tra meno di un mese avrò gli esami per diventare estetista. La scuola mi sta uccidendo, le unghie anche, il trucco anche, quindi tutto quello che sto facendo mi sta portando via un bel po' di tempo. Comunque i video che devo montarvi la settimana prossima sono l'altesissimo video sulla applicazione della tip e uno con la hall della Mac. Finalmente mi stanno per spedire l'ordine che ho fatto al Mac Store di Roma tramite internet. E niente, poi i vari acquisti che ho fatto in questi ultimi mesi su gel, smalti e niente. Spero solamente voi abbiate la pazienza ad aspettarmi. Un bacio a tutte, ciao!